Allora, dato che fra poco dovrò decidere chi di voi lavorerà con me, finora non abbiamo mai parlato di cosa io pretendo da chi collabora con me. Prima di tutto, con me non ci sono orari. Le mie esigenze di flessibilità sono enormi. Vi capiterà di fare Natale a novembre, come a gennaio, e la dedizione alle emissioni che avete, qualunque sia, deve essere al 3.000%. Se siete disposti a tutto questo, andiamo avanti. Certo, chiaro.